pubblicità e partiamo immediatamente cara Doriana saluto ecco qua il rosso dolce vestite guarda guarda sommino delle cavalerizze dell'inghilterra con quei vestiti rossi con le giubbe rosse mancano i cappellini saluto il comandante mai tagliato però eh mai tagliato vedi mi ha detto che l'ho tagliata e non è vero lei dice che in quell'epoca che l'ho tagliata eh oh ma guarda che la gente ecco il Polesine ma dire il Polesine sai loro guardano il programma ma c'è gli tagli gli tagli te lo dicono eh si scrivono Robby non mi tagliare più eh eh certo eh eccole qua eccole qua le sorelle Verona salutiamo Verona eccole qua di Verona le dolcezze di Verona le patronesse di Verona guardale guardale signora ma c'erano le patronesse di Gorizzante ma non le ho viste grazie eccole qua eccole qua certo che le mandiamo in America si può vedere anche in America signora anche in America si vede basta collegarsi a www.goriziatv.it certo eccole qua altre queste sono di un giorgio invisimale ecco vero si non so vediamo sentiamo sentiamo cosa dico guardate tutte mano nella mano le dolcezze eccole qua queste passeggiano ma hai notato quante donne eh ma le donne sono una forza eh le donne sono una potenza eccolo qua l'uomo associazione nazionale mutilati per servizio eccolo lì salutiamo il giovanotto eccoli qua c'erano parecchie persone dobbiamo dire che a Gorizia ce n'era abbastanza salutiamo il grandissimo in quell'epoca non era lui al caffè Garibaldi salutiamo Denis che oggi è il caffè Garibaldi con grande potenza attenzione attenzione adesso fai attenzione guarda quanta gente guarda quante bandiere quante bandiere soprattutto ma guarda è una roba tanti tricolori ma guarda che è una cosa impressionante guarda guarda che roba ma guarda ma non so Roby sarà la crisi non so non lo so eccole eccole ecco ascolta ascolta le ruine del piave giunga la frontiera per far contro il nemico una pariera tutti passando in quella notte infanti da c'eri bisognava andare avanti ciò diventato dalle amate scompe sono estero e l'unica dell'ombre era un passaggio dolce e luciniero il piave tu la sai questa canzone? certo ma volevo sentire l'oro e qua cosa ho detto io sono del paradiso avevo letto male capito? invece sono del paradiso si guardale eccole qua vedi sono tutte del paradiso a vederle si guarda è meglio si eccole qua guarda le dolcezze del paradiso arrivo anch'io 82 ecco 82 guarda che forza 82 adesso avrà senz'altro 95 cara e e e eccole De Bergen De Hutta o De Hutta o De Sotto De Hutta o De Sotto oh saluto il gioiello eccola qua la grande ecco il numero 10 che noi la chiamavamo numero 10 perché noi noi filmavamo ecco San Marco filmavamo scolta filmavamo la dinamica 80 saluto la grande la figlia dell'ex sindaco e e come si chiama che è un ventino De Simone Patronesse di Magenta eccole lì di Milano eccole qua stai attento che si rompe eccole qua Patronesse Gemona ascolta Gemona ascolta Gemona Gabriella si si ora 21 va bene graziella graziella si chiama mi raccomando Gemona noi siamo di Castelnuovo Monte Reggio Emilia Castelnuovo Monte Reggio Emilia Reggio Emilia bene salutiamo Reggio Emilia eccoli qua guarda che peso sentiamo eccolo guarda 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 mi ruba il mestier mi ruba eccolo lì guarda come che filma in maniera potente salutiamo gli amici di Magenta vicino Milano Milano certo vicino Milano salutiamo Brescia e Manervio vero che salutiamo Manervio si un bacione ai tutti gli amici di Manervio e allora qua invece troviamo il 151esimo reggimento Sassari poi abbiamo il 152esimo reggimento di Sassari eccoli qua e poi chi abbiamo Torino 82esimo reggimento e guarda che le fa le pulizie a Gorizia vedi lì eccoli là Ferrara salutiamo gli amici di Ferrara e anche Sgarbi ecco qua Di Bon il grande suonatore di chitarra un personaggio veramente grande saluto Lucia eccola lì e poi andiamo avanti guarda quanto è c'era pieno hai visto che roba è un pienone strepitoso allora diciamo che questo è veramente grande partecipazione 1998 raduno dei fanti a Gorizia diciamo al grandissimo caro sindaco chiami gli alpini o i marinai o l'aurenautica il raduno a Gorizia i bersaglieri non dimentichiamo mettiamo i bersaglieri anche loro ecco e allora così così riusciamo a fare un grande movimento in questa città guarda chi c'è guarda chi c'è ascolta ascolta non si può un vaso sentila 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 però lo vuole guarda guarda lì brava guarda chi è felice ascolta che è felice senti che è felice c'era un frate che veniva direttamente dalla Sicilia lo salutiamo ecco le patrone le dolcezze salutiamo il frate della Sicilia direttamente dalla Sicilia che gli ha dato un bacio guarda che medagliere guarda che medagliere guarda di qua siamo quasi a rifare di conclusione cara Doriana e poi vedremo un sindaco speciale fai attenzione tra poco guarda di qua eccoli qua stiamo a rifare di conclusione attenzione adesso andiamo immediatamente dove andiamo fai attenzione anche lui anche lui è vestito guarda che bello allora vi raccomando che le amici se sapete cos'è le patronesse mandateci gli sms andate a vedere nel sito mandateci lo scritto vediamo se lo sapete ma non lo sanno scriveteci non lo sanno ti dico Doriana non lo sanno ma come non lo sanno saluto Reggio Emilia lo sapranno ti giuro guarda che non lo sanno non lo sanno vedrai se non lo sapete andate su internet ecco la prossima settimana ve lo diciamo noi se no ma vi daremo un voto Roby fammi salutare la Silvia che mi ha sostituito la scorsa settimana saluta saluta Silvia settimana un bacione a Silvia grazie ecco ti abbiamo tertassato un po' la parola sì vi ho sentito grazie dei saluti va bene io senza voce purtroppo non poterò hai visto adesso il marito è contento che ti toccate la voce mamma che contento lui è così felice che si chiude in casa Basenghe Dipine di Trento salutiamo gli amici di Trento eccolo qua i bersaglieri sono questi i bersaglieri salutiamo Novara che lì c'è una caserma dei bersaglieri a Novara e Oleggio che è vicino a Novara è vero ecco il Brasile guarda il Brasile guarda la Brasileira e lì mi faccio mettere in galera per almeno dieci anni capito no dieci facciamo due giorni ecco il sindaco di Vicenza di un paese di Vicenza ascoltala guarda qualche altra guarda guarda di dove lo sei 2.000 Vicenza 2.000 Vicenza quindi tutti in Vicenza è già di Vicenza è già felice contento va bene allora andiamo 1998 24esimo ad uno dei fanti benissimo il programma è finito è finito così velocemente ma mi è passato velocissimo Robby sarai tu sarò io ma che ne so una velocità allora mi raccomando mandateci le patronesse cosa sono allora un grande saluto da Robby e dalla vostra Doriana benissimo un bacio a tutti quanti ucchie rosse alfabet l'alta moda è i rucci occhiamando